satna in questa breve pratica nel tuo corner ti faccio vedere una breve pratica per aprire le anche ho messo insieme un movimento di base che adesso praticherai insieme a me più un flow che puoi fare tutte le volte che appunto vuoi lavorare un pochino sull'apertura delle anche per questa pratica potrai avere bisogno di una copertina e cominciamo subito sistemando la copertina ripiegata in maniera rettangolare adesso capirai perché verso la fine del tuo tappetino qui andiamo appoggiare le ginocchia larghe per entrare in wild balasana quindi alluce a contatto ginocchia larghe mi allungo in avanti con le braccia appoggio la fronte sul tappetino e mi prendo qui 5 respiri ovviamente puoi poggiare i gomiti a terra cerca di poggiare la fronte più lontano possibile e all'espiro rilassa bene tutta la fascia lumbare bene ora lentamente dopo i tuoi cinque respiri sollevi la testa guardi in mezzo alle tue mani apri per bene le dita delle mani e ispirando cominci ad andare su in posizione quadrupedica mantenendo tuttavia le ginocchia larghe gli allusci a contatto ed ispirando comincio a far scivolare il bacino verso il basso staccando le tibie e i piedi da terra ed aprendo il petto in avanti come in una mezza specie di urva urva da nuratana quindi cane a testa in su urva mukha chivanatana pardon cane a testa in su ed ispirando di nuovo ritorno giù con i piedi glutei sui talloni wild balasana facciamo questa transizione cinque volte quindi inspiro vado su entro nella mia mezza specie di urva mukha chivanatana e ispiro vado indietro e ancora per quattro posso piegare un pochino i gomiti e ammorbidire la posizione se la percepisco troppo intensa un pochino i gomiti e un pochino i gomiti e un pochino e un pochino e un pochino e un pochino e l'ultimo ispiri molto bene da qui vado in posizione quadrupedica classica posso togliere la copertina non mi servirà più per il momento comincio a puntare le dita dei piedi sul tappetino ispirando in arco la colonna guardo leggermente verso il soffitto ed espirando comincio ad entrare in adho mukha chivanatana conquisto bene il centro del mio tappetino rivolgo per bene le anche verso l'alto guardo verso l'ombelico allungo estendo per bene le mie braccia faccio respirare il mio corpo nella posizione del cane al testa in giù spingo bene le pelvi verso l'alto le anche verso l'alto e poi lentamente avvicino leggermente i miei piedi in uno verso l'altro ed ispirando sollevo la gamba destra quindi la piego e apro l'anca cercando di portare il ginocchio destro idealmente sopra l'anca sinistra rialligna le spalle quindi guarda verso le tue mani spingi un pochino di più con la mano destra dentro il tappetino e poi al prossimo ispiro ritistendi per bene la gamba destra piede destra martello chiudi l'anca ed espirando porta il piede destro in mezzo alle tue due mani qui porta il ginocchio sinistro a terra se hai un ginocchio molto sensibile metti la copertina sotto il ginocchio sinistro ma assicurati di poggiare il ginocchio sinistro piuttosto indietro perché perché vogliamo colare con il bacino verso il basso portando su le braccia per entrare in angeli atana e cercare di sentire bene l'allungamento degli leo psoas guarda leggermente verso l'alto palmi delle mani a contatto due respiri ed espirando porta la mano sinistra a terra polso sotto la tua spalla e al prossimo ispiro stacchi il ginocchio sinistro sollevi il bacino spingendo l'omberico verso la colonna e apri il braccio destro verso l'alto in linea con la spalla destra stai qui due respiri ed espirando scendi con il braccio destro all'interno della gamba destra cammina con le mani all'interno delle tue gambe apri la punta del piede sinistro verso l'esterno pieghi la gamba sinistra e stacchi il tallone e scusate la pianta del piede destro il tallone destro rimane a terra porti i polpa astrali delle dita delle mani a terra e mi allungo qui con la colonna per una versione più alta di skandasana ancora due respiri e poi lentamente ispirando porto il piede destro a terra e mi apro nella posizione della stella quindi su con le braccia su con il busto un bel inspiro qui ed espirando piega le gambe mani in preghiera posizione della dea di nuovo inspira stendi le gambe apri le braccia posizione della stella prossimo ispiro chiudo la punta del piede sinistro in avanti apro la punta del piede destro piego la gamba destra entro nel mio mirabba trasana 2 cerca di mantenere le anche in linea con le spalle rilassa lo sguardo rilassa soprattutto la mandibola guarda la punta del del tuo dito medio destro ovviamente ispirando rivolgi il palmo della mano verso l'alto mano destra e va indietro con il busto questo è il tuo reverse warrior ed espirando riporti le mani a terra ai lati del piede destro stacchi il tallone sinistro trovi un high glance porti per bene le palmi delle mani a terra passo indietro con il piede destro panca un respiro attiva bene il quadricipite attiva bene l'addome ed espirando di nuovo ad un kashmanasana bene questo è il nostro flow per aprire le anche sentirei l'anca destra magari un pochino più aperta adesso rispetto alla sinistra proviamo a fare lo stesso lavoro dall'altro lato quindi avviciniamo i piedi prossimo ispiro sollevo la gamba sinistra piego la gamba e apro l'anca cercando proprio di portare il ginocchio sinistro idealmente sopra l'anca destra ora livella il peso sulle tue mani livella le tue spalle quindi chiudi un pochino l'ascella sinistra e poi ispirando ridistendo per bene la gamba sinistra chiudo l'anca guardo in mezzo alle mie due mani espiro piede sinistro in mezzo alle mie due mani ginocchio destro a terra se ho bisogno della copertina sotto il ginocchio destro la sistemo ispiro vado su angeliasa mani in preghiera guardo leggermente verso il soffitto qui la colonna si può inarcare devo sentire l'ileoxos destro che tira un pochino grazie a tutti